Buongiorno ragazzi, il lavoro che dovete fare oggi è un lavoro individuale di ricerca utilizzando il vostro libro di testo, il libro A, e se non avete il libro A utilizzando semplicemente il web. Oppure se avete il libro A ma vi piace l'idea di poter utilizzare il web, fatelo pure. Allora intanto condivido con voi lo schermo del mio telefonino perché sto usando la registrazione col telefonino. Andate sul mio blog, quindi blogspotelisabettaascuola.blogspot.com, scorrete i vari articoli, vi trovate Caccia al tesoro su Beethoven, cliccate e continua a leggere. Ed ecco il lavoro che oggi dovete fare utilizzando il web o il libro di testo, dovete trovare queste informazioni che riguardano il terzo compositore fondamentale del classicismo, cioè Beethoven. Abbiamo fatto Haydn, abbiamo fatto Morda e adesso Beethoven. Quindi, Beethoven, queste sono le informazioni che voi dovete trovare. Data e luogo di nascita, il numero uno. Strumenti che sapeva suonare. La malattia che ebbe. Le conseguenze di questa malattia sulla vita ed il carattere di Beethoven. 4. Quante sinfonie compose? 5. Confronto col numero di sinfonie che scrisse Mozart. 6. A chi fu dedicata la terza sinfonia? 7. Come fu denominata la terza sinfonia? 8. Situazione finanziaria di Beethoven rispetto a quella di Mozart. 9. Titolo della sesta sinfonia? 10. Cosa descrive la sesta sinfonia? 11. Titolo della sua unica opera? 12. In quale sinfonia è contenuto l'inno alla gioia? 13. Quale messaggio Beethoven vuole trasmettere con l'inno alla gioia? 14. Cosa è diventato l'inno alla gioia? E ultima. Perché secondo te è stato scelto proprio l'inno alla gioia? Poi ci sono due ascolti che però faremo la prossima volta. Tutto questo lavoro di ricerca di queste informazioni voi lo dovete fare utilizzando il web. Poi dovete creare un documento in cui scrivete tutte le risposte a queste domande che io vi ho fatto. Quindi 1, data di nascita e via dicendo. E scrivete. Questo lavoro poi ognuno di voi me lo dovrà inviare via posta elettronica, alla mail. Vi faccio vedere un attimino. Vado su note così posso scrivere e vedete quello che scrivo. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica. Elisabetta, punto pizio, attenzione la E minuscola, chiocciola, icilapira, tutto attaccato. I.C. sta per istituto comprensivo, icilapira.edu.it Questa è la mail, quindi elisabetta.pizio, con una Z, chiocciola icilapira.edu.it A questo indirizzo di posta elettronica voi dovete inviarmi il lavoro che avete fatto, il lavoro di ricerca su Beethoven rispondendo alle 15 domande che io vi ho dato. Non vi vieto di lavorare in gruppo, va bene? Quindi potete anche inviarmi un elaborato, scrivendo elaborato, fatto da, e scrivete il nominativo degli alunni che hanno partecipato a questa ricerca. Però vi chiedo, se siete, chiaramente sono 15 domande, quindi io direi che non possono essere gruppi più grandi di 5, ok? E chiaramente non potete trovarvi di persona a farlo, perché sapete che non è possibile in questo momento. Quindi lo potete fare via mail, via WhatsApp, via videoconferenza, potete farlo come volete, ok? Insieme, poi lo scrivete e me lo inviate mettendo i vostri nomi, va bene? Non più di 5 persone per gruppo, per favore, e soprattutto quelle 5 persone che hanno partecipato devono aver tutte effettivamente partecipato al lavoro, se no non ha assolutamente alcun senso, va bene? Il lavoro viene poi valutato, io lo valuto e poi valuterò anche in un secondo momento l'acquisizione di questi contenuti da parte di ognuno di voi. Quindi oggi il vostro lavoro è questo, finita questo breve video che dura circa 6-7 minuti, vi mettete a lavorare, nel giro dei 50 minuti rimanenti dell'ora di lezione di musica dovreste già produrre questo documento, perché non è così difficile reperire queste informazioni. Quindi, però, passate comunque dalla piattaforma di conferenza Meet per farmi un saluto e dirmi se avete capito e come vi siete stato organizzando per il lavoro. Va bene? Ok, ciao, buon lavoro a tutti!